Offrire consulenza e servizi a 360 gradi nel mondo dell'arte. E' questo l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato a Milano da Art Defender, azienda specializzata nella gestione dei patrimoni artistici, e dalla società di consulenza Clarice Pecor e Giraldi Art Advisory. Il progetto del nostro lavoro, di questa cooperazione che abbiamo in mente, è in pratica un completamento di una richiesta che ci è arrivata da più parti di poter fornire un punto d'incontro unico alla collezionista o ancora meglio alla collezione in sé. E di conseguenza la collezione che può avere bisogno una volta di depositi o di trasporti dedicati, ma dal mio punto di vista di tutte quelle consulenze che sono proprio i soft skills che hanno contraddistinto quello che io ho fatto negli ultimi 35 anni. Specializzata in conservazione e tutela, Art Defender è guidata dall'amministratore delegato Alessandro Guerrini. La collaborazione con Clarice Pecor e Giraldi è, a mio avviso, una evoluzione naturale del nostro progetto, che di fatto, con quest'ultimo tassello, mette a sistema tutti i servizi che abbiamo offerto fino ad oggi per offrire al cliente una proposta integrata e coordinata volta a gestire, appunto, in modo ottimale le sue collezioni d'arte, che richiedono oggi più che mai competenze specifiche e specialistiche, con un tratto distintivo che voglio sottolineare, che è quello della proiezione internazionale. Per Clarice Pecor e Giraldi, poi, un elemento decisivo è rappresentato dalla distanza da logiche puramente commerciali. Probabilmente la caratteristica più importante di questa proposta è l'indipendenza, cioè il fatto di poter offrire un servizio che sia veramente a beneficio del collezionista e della collezione. È una proposta completamente indipendente, a 360 gradi, per qualsiasi bisogno un collezionista o una collezione possa avere. Una tendenza, quella della consulenza a tutto tondo, che nel mondo dell'arte risponde anche a una forte domanda da parte dei soggetti detentori di patrimoni.